Dopo aver fatto tutti questi chilometri siamo quasi arrivati alla tappa ma ci voleva una sosta. Intanto ringrazio il sindaco di San Gimignano che è venuto a trovarmi, ringrazio anche il proprietario di questo bellissimo agriturismo, Leoneto, e voglio dire a tutti voi che ne vale la pena di fare questo percorso, anche perché guardate che meraviglia. Dopo la fatica il ristoro con i nostri prodotti tipici della zona, i salumi, i formaggi, l'olio che spesso troviamo fatto in casa in questo agriturismo e il vino. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per fare veramente una gita, forse è sbagliato dire la gita, un percorso che è veramente bello. Spesso andiamo all'estero e ci sembra tutto meraviglioso. Amici, la meraviglia è l'Italia e la francigena. La consiglio a tutti perché è veramente un percorso straordinario.